Potevamo far meglio il primo tempo, sicuramente non siamo entrati con la mentalità giusta, è vero anche che avevamo assenze importanti, soprattutto in determinati ruoli dove facevamo fatica a sostituire, però poi quando l'abbiamo messa un po' con più di coraggio e abbiamo buttato qualche palla un po' più lunga per andare a aggredire le seconde palle, abbiamo fatto sicuramente meglio. Primo tempo volevamo iniziare l'azione, ma eravamo un po' in difficoltà, soprattutto in mezzo. E' che la costante nostra, che prendiamo sempre gol sul calcio da fermo, sui colpi di testa, lì soffriamo, ci manca centimetri, ci manca un po' di attenzione nel subire questi gol, perché ultimamente subiamo gol solo sul calcio da fermo. Però poi la partita, abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti, sicuramente è una partita che alla fine ce l'abbiamo conquistato, sicuramente è il punto. Perito un po' opaco, quattro partite senza vittorie, che cos'è mancato rispetto alla prima parte di stagione in cui siete partiti forti? La nostra squadra è una squadra giovane, vorrei sempre ricordare che è una squadra giovane, c'è 11-99, c'è il 2000, dentro nella Rosa, negli over abbiamo 2-96, perciò è una squadra che probabilmente è andata oltre le aspettative all'inizio e adesso non è riuscita a mettere dentro qualcosina in più, è calata un pochino fisicamente e lì abbiamo pagato un po'. Lo sapevamo dall'inizio che abbiamo una squadra giovane che ha bisogno di un po' di tempo, che deve trovare i ritmi, anche questi 99 che arrivano dalla Juniors devono trovare i ritmi della prima squadra che sono diversi sicuramente da quelli della Juniors e perciò ci vuole pazienza, ci vuole tempo, 23 punti li abbiamo conquistati e ce li siamo sempre meritati, non ci ha regalato mai niente nessuno, anzi probabilmente siamo un pochino a credito con qualcosa e perciò il progetto va avanti, l'obiettivo di portare avanti i nostri giovani nella nostra squadra, per me siamo in linea sicuramente con i nostri obiettivi. Ecco quindi di qui alla fine dell'anno, comunque del giorno, era andata non un obiettivo particolare ma continuare questo percorso di periodo. Assolutamente sì, era l'obiettivo che ci avevamo prefissati, forse all'inizio siamo andati bene e ci siamo un po' illusi di starli davanti, però ultimamente abbiamo perso qualche punto e perciò adesso ci troviamo in una situazione dove dobbiamo ancora capire chi siamo, dobbiamo ancora capire cosa vogliamo fare, perciò bisogna mettere dentro qualcosa, lavorare ancora di più e la speranza è che qualche giovane, qualche altro cresca e di mettere dentro qualcosa in più. Finalmente è arrivata questa punizione, ho visto il palo col Ciliverghi e la traversa di domenica scorsa, il tuo sinistro stavolta chirurgico proprio al minuto esatto. Sì, è andato bene così oggi, dopo una parita difficile sotto 2-0, dopo il palo e la traversa la sfortuna in queste settimane è finalmente arrivato il gol, sono contento soprattutto per il punto che abbiamo fatto, che siamo ripartiti e che ci serve un po' da lezione, il primo tempo buttato. Inizioni solo quest'anno abbiamo visto tirartele, magari in carriera avevi già comunque il bicchietto? Tipo l'anno scorso con Morosini, Magrin, Porcino, c'erano tanti specialisti quindi era anche inutile presentarsi, quest'anno visto che sono andati via tutti e c'è solo Germani o Riva, dalla parte destra calcio io col Mancino. Difficoltà su 2-0, ti ho visto un po' persi in quel primo tempo, sulla svolta c'è stata anche negli spogliatoi magari? Diciamo che negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dovevano reagire per noi stessi, per la società, perché non potevamo giocare così male e abbiamo tirato fuori qualcosa in più tutti e per fortuna andata bene, poi poteva anche andare male ma l'importante era reagire in quel momento. Il punto serve per ripartire e va benissimo così. Qual è la partita che è stata più fastidio delle ultime che sono andate con le due sconfitte, questo pareggio? Forse l'Umezzane perché proprio ci siamo persi dopo il 2-0 loro, ci siamo persi per un quarto d'ora, venti minuti, non eravamo più noi e abbiamo fatto una brutta prestazione, continuavamo a correre a vuoto, invece col Caravaggio abbiamo preso gol sul Palinattiva alla fine, oggi sotto 2-0 ma abbiamo creato poco, noi abbiamo creato qualcosina tipo il rigore che poteva darci su Germani, Plumbai da 0 mese che ha sbagliato, però ha fatto gol fino ad adesso e va bene così. Adesso c'è un altro derby, lo scanzo. L'anno scorso ci hanno tolto tanti punti lo scanzo, soprattutto dopo il filotto di 9 vittorie l'anno scorso abbiamo fatto il pareggio là, quest'anno speriamo di rifarci. Grazie. 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 Grazie.